Buongiorno a tutti, bentornati a Ho ragione avvocato dagli schermi di Video Novara, Odeon TV e le emittenti collegate. Oggi sono momentaneamente orfano del collega avvocato Gian Mario Bastetti che per motivi professionali non è potuto essere con noi e quindi cercherò di tenervi compagnia con tre argomenti che sono poi uno legato all'altro anche perché provengono da un'unica rivista che è Computer Idea. Ogni tanto mi avvalgo anche di queste riviste che sono comunque utili per l'aggiornamento anche dei diritti via web. Me la lasci? Me la puoi lasciare questa qui? Che così me la guardo? Ok.